Vorrei farvi fare un saluto dal nostro grande sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, che è stato riconfermato, un grande amministratore. Il 54% lega contro tutti e tutto. Questa è Arona. Fatti, non parole, come fa il nostro Presidente del Consiglio. Ecco perché abbiamo fatto il 54%. Ecco perché abbiamo vinto Arona e rivinceremo il Piemonte e anche l'Italia con Salvini. Viva la Lega, viva Salvini! Oggi siamo qui a festeggiare un risultato straordinario. Grazie all'azione della Lega e grazie a Matteo Salvini, che è stato veramente bravo, è veramente un grande segretario e ci ha indicato la linea giusta. In Piemonte abbiamo una cappa che ha messo la sinistra. Grazie a questo vento che sta aspirando dobbiamo far saltare questa cappa. Abbiamo prossimamente degli appuntamenti molto importanti, amministrativi. Speriamo anche l'appuntamento politico, speriamo che Renzi vada a casa il più presto e si possa votare alle politiche perché Salvini diventi il Presidente del Consiglio. In Piemonte abbiamo degli appuntamenti importanti. Innanzitutto la Regione, speriamo si voti al più presto perché la giunta di Chiamparino è completamente ferma, si è contraddistinta soltanto per due cose, l'aumento delle tasse e la richiesta di immigrati. Sì, proprio mentre i nostri governatori, per difendere il territorio, dicono che non possiamo più ospitare clandestini, l'attuale Presidente della Regione Piemonte dice che invece abbiamo bisogno di immigrati, che siamo un Paese ricco, che ha bisogno di immigrati. Vada a dirlo alle aziende che chiudono questo. E poi abbiamo una città, che è quella di Torino, che è assolutamente malgovernata, con un sistema di potere che si regge soltanto sugli interessi e su un'informazione orientata. Parlano bene soltanto dei loro amici. Per prima la Lega, con grande coerenza, ha sempre detto certe cose. Noi viviamo in un sistema dove i nostri giovani vanno via perché non trovano lavoro, eppure si ospitano i clandestini negli hotel a 5 stelle. Stipendiati, basta! Viviamo in un Paese da cambiare dove se uno non riesce, un nostro cittadino non riesce a pagare l'affitto perché perde il lavoro, lo sfrattano. E invece a Torino, nelle palazzine ex moi, ospitano i clandestini. Loro possono star lì vita natural durante. Se un artigiano costruisce un pezzo di tettoia abusiva, gliela fanno abbattere. Invece ci sono interi campi Roma abusivi dove si fa di tutto e nessuno dice niente. Sicuramente servono le ruspe di Salvini! La sinistra è sempre così. Per loro le leggi, per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. Abbiamo capito chi sono i loro amici. I nostri amici invece sono i cittadini. La gente è nostra amica. Piemunt liber! Viva Salvini! Viva Pontida!